Oggi, 26 dicembre 2023, ora sono 11.20, mi trovo qui alle grotte, località di imboschimento Comunico dei Marzi. Sto facendo una esplorazione qui dentro la grotta, ma qui ci sono venuti diverse volte, solo che questa volta mi soffermo e sono dotato di casco speleo con adeguata illuminazione. Adesso, così non si vede niente, no. Allora, escursione, dove facciamo partire? Qui, dall'ingresso. Allora, seguitemi, ho già fatto un percorso con illuminazione più imperiore di questa. Adesso mettiamo, si accende, sì? Ecco qua. Vedete, così si vede poco. Così? Allora, uno, due, ecco qui. Guardate, qui ci sono escrementi. Questa è una piuma, non è di pipistrello. Ci sono zanzare. Abviciniamoci, abviciniamoci, abviciniamoci. Meravigliosa questa luce a speleo. Allora. Questa è una piccola plastica, non so come ci sta. Eccola qui. Questi sono escrementi di pipistrello. Proseguiamo di qua. Guardate. Oh, sembra oro. Questo sembra oro, non è che ci sta l'oro, no. Ma un po', non è? Sembra oro. I riflessi, non è che ci sta l'oro. Qua qualcuno, vedete qualche video e crede veramente l'oro. Allora. Fammi soffermare qui. Una potenza, sta luce. Ecco una zella di ragno, non so se so vede. Eccola qui. Eccola qui. La zella di ghiatagno. Non so se si vede. Guardiamo sopra. Eliminiamo ancora più sopra. Questo è... Allora, descriviamo sommariamente la grotta. Allora la grotta. La base è qui sotto. Da 2 metri saranno circa 12 metri. Però l'altezza della grotta, approssimativamente da lì, a lì, il punto più alto, sì, dovrebbe essere anche 10 metri. La larghezza da lì a lì, la larghezza più ampia, ah, la più ampia è qui. La larghezza più ampia da qui a lì, ah, da lì, li accento. Il punto più, più largo da qui a lì, saranno 25 metri. E qui, ah, poi a proposito, la grotta. Dalla base, fammi spostare un po', così descriviamo l'altezza. Da lì, allì in fondo, a farmi scendere. Lì in fondo. E alcuni, altri angoli. Comunque, approssimativamente, questa grotta dovrebbe essere di circa 300 metri quadri. Bella, meravigliosa. Vabbè, continuo la mia ascesa. Sto a salire di qua. Fammi continuare a salire. Sto a procedendo un po' troppo speditamente. Perché quando si prendivide, bisogna procedere piano. Io scurdo il terreno, perché spesso, eh, questa è una radice. Posso prenderla sopra la montagna. Questa è una piccola radice. Qui è piena di escrementi di pipistrello. È chiaro che in tutte le grotte ci sono i pipistrelli. Guardiamo il tipo di roccia. Questa è la parte estrema. Però qui è tutto terreno. Ok, scuro qui. Ho già asciutto, ma a volte qui è molto scivoloso. Altri escrementi di pipistrello. Vediamo qui. Cos'è quella là? Una radice. E da dove è sta radice? Qui. Guardiamo qui. Qui. Vabbè, dopo la prossima volta ci vengo. E là non è che è il pipistrello. Non lo so, ma è sempre un pipistrello molto grande. No, non è il pipistrello. È scuro. Guardate la soffetta. Com'è? Bella, eh? Che calcare. Soffermiamoci anche qui. Guardate che tipo di roccia. Le zanzali ci sono sempre dentro le grotte. Qui. Rantumi di roccia. Questo c'è un osso. Dovrebbe essere un animale. Dovrebbe. E qui i segni del terremoto. Allora qui, nel corso di Socoli degli anni, dei secoli, dei millenni continui terremoti che hanno stravolto la conformazione di questa grotta. Quindi il fondo era più profondo. La soffetta più bassa. La madre è qui. Qui c'è una roccia. Guardate qui. Com'è bello. Meraviglioso. E guardiamo qui. Lungo gli arci. Qui c'è un buco. Sì. Io questa l'ho visitata. Ci sono ragni. Ecco qui. Ecco qui i ragni. Vedete? La fammi ingrandire. E vediamo. Il ragno se ne sta scappando. Si è spostato il ragno. Eccolo qui. Vedete il ragno. Ma c'è il tipo di ragno. È diverso. Da questo è qualche ragno delle grotte. Ecco un altro ragno. Non so se questi sono leggermente velenosi. Sono diversi. È pieno di ragni. Chi viene qui alla grotta deve stare a tendere. Può non dovete rizzanzare. Gli ragni. E' scorpione. Ancora uno che ho questi. Questa. A proposito. Vediamo un po' qui. Oh. Allora. L'ingresso di questa grotta. Oh. Stappino dell'agnetto zanzara. Guardate. C'è un osso. Un osso. Vedete? Che osso umano. O di animale. Bene. E ferma qui.